E' partito il 24 febbraio scorso il nuovo piano di raccolta differenziata dei rifiuti a Castellabate gestita dalla società Sarim e organizzata dall'assessore all'ambiente Domenico Di Luccia. Nonostante siano trascorsi soltanto una quindicina di giorni, il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, esprime già una prima soddisfazione nei confronti dei cittadini. Sono molto soddisfatto perché già dai primi giorni non sono dati che possono essere presi a riferimento, però sono già sensibilmente in aumento i dati della raccolta differenziata. Questo come primo dato, come primo segnale che mi comunicano gli uffici. Ma ne ero certo, ne ero convinto perché una sollecitazione, una spinta, una sensibilizzazione quando viene data, i cittadini la recepiscono perché hanno tutti voglia di far bene e di migliorare il proprio paese, la propria comunità. Quindi è uno sforzo che noi abbiamo fatto, ma è uno sforzo semplice, è un obiettivo semplice da raggiungere proprio perché c'è grande collaborazione, c'è grande condivisione e quindi la raccolta differenziata sta già aumentando, i servizi stanno già migliorando. Però devo dire che noi partivamo già da una situazione abbastanza vantaggiosa, abbastanza soddisfacente da questo punto di vista perché partivamo già da un 55-58% di raccolta differenziata e da una cura del territorio, del verde e in generale del decoro urbano già molto attenta. Quindi questo può solo migliorare, può solo sensibilizzare ancora di più e spingere ancora sulla raccolta differenziata.